La radioastronomia è una scienza potente per l'educazione e l'audito perché puoi osservare il cielo anche nel giorno e in condizioni di giornata. Inoltre, i telescopi radio professionali sono grandi, costruiti e difficili da usare. Ma oggi Prima Ruce Lab ha cambiato le regole per introduire i telescopi radioastronomia di Spider Mark II che permettono ai nostri istituzionali di lavorare e operare un telescopio radio professionale ma compatto. Spider è il telescopio radio che abbiamo sviluppato e sviluppato in Italia per aiutare le tecnologie più avanzate per l'albain radioastronomia e per registrare le regole radio a 14-20 MHz, in modo facile. Spider 300A Mark II viene con un diametro di diametro di 3 metri e il modello del 500 Mark II offre un diametro di diametro di 5 metri che significa più performance e risoluzione. Spider 300A e i telescopi radioattronomia di 500A Mark II sono composti di 3 o 5 metri di diametro di parabolica con un riflettore di base principale che riduce la sensibilità di vento ma, allo stesso tempo, offre una formazione molto buona sulla volante registrata. Fiede con uniti duali LNA che hanno stato designati per i telescopi radioattronomia di Spider Mark II per offrire la sensibilità e il risultato di alta, per ridurre il effetto di spillo e permettere la registrazione di polarizzazioni circolari di right-hande circolari. Systemi di traccia di traccia di traccia di alta alta che offrono la capacità di peso grande e la precisione di risoluzione di risoluzione grazie all'unità di controllo di antenna integrata con capacità più veloce e capacità di controllo di rinnovazione e avanti di controllo di rinnovazione. Piure che offrono la stabilità meccanica per l'installazione del radioattronomia su una base concreta. Spider 300A e 500A Mark II sono strumenti di turnkey che anche includono l'H142-BRA radioattronomia, il radiometro di 1420 MHz con 50 MHz di distante e il 1.024 spettrometri di canale che sono installati nella sala di controllo e collegati al computer dove installi e rinnovate Radio Universe Pro il nostro software dedicato che sviluppo specificamente per controllare il telescopio radioattronomia, collegare e processare i dati di radioattronomia. In questo modo ora puoi ottenere e operare un telescopio radioattronomia professionale per fare il vostro progetto educativo e anche un progetto di ricerca per la radioattronomia. I telescopi radioattronomia di Spider Mark II sono completamente designati, assemblati e testati in i nostri headquarters in Italia e possiamo vendere in tutto il mondo. E se hai bisogno di aiutare per iniziare il tuo programma radioattronomia, il nostro team di installazione è anche potente proporzionare installazioni e servizi di allenamento. Quando si comprava un telescopio Spider 300A o un telescopio 500A Mark II non può essere installato su un telescopio radioattronomia, ci sono alcune cose che bisogna considerare. Prima di tutto, a causa del peso e del peso del Spider 500A Mark II non può essere installato su un tavolo. Potrà necessario una base di concreto. Il Spider 300A Mark II è più compato e leggero, quindi potete scegliere di montare sul tavolo di una struttura se non puoi avere una base di concreto. Secondo, la antenna di radioattronomia con il sistema del telescopio e il piatto deve essere installata a fuori, mentre il servizio, insomma con il software Radio Universe Pro sono installato nella ruota di controllo. Il servizio è collegato alla antenna via due coaxiali, mentre il sistema del servizio è a 220V di potenza e collegato alla ruota di controllo con un cable internet. Potete avere un canale o conduit da antenna alla ruota di controllo che suggeriamo all'interno per gestire il tuo cable. Oggi i cable di coaxiali hanno una perdita di segnalo di 3db, che significa che il segnalo è fuori ogni 10 metri di lunga, vi suggeriamo che abbia una ruota di controllo a distanza di non più di 50 metri dall'antenna. Se avete una distanza più lunga, a 1000 metri, vi consigliamo la radioattronomia opzionale e montare le kit di overfiber per i telescopi di Spider Mark II. Più più, il kit di radio overfiber prevene ogni perdita di segnali e riduce la sensibilità alle interferenze di radio. e se siete preoccupati sulle RFIs, abbiamo disegnato i telescopi di Spider 300a e 500a Mark II con molti tipi che ridurano la sensibilità alle interferenze di radio. Quindi potete usare senza l'interno di installare in un posto molto isolato. Per esempio, il software Radio Universe Pro viene con una tipica specificamente designata BBC Tool che permette di usare dei filtri digitali per ridurare una parte specifica del spectrum se trovi un RFI. i telescopi di Spider 300a e i telescopi di Spider 300a e i telescopi di 500a Mark II possono anche essere usati con un sensore di vento opzionale che automaticamente parcerà il telescopio di radio quando è usato se il vento spegna la velocità di 50 km per l'ora. i telescopi di Spider 300a e i telescopi di 500a Mark II sono i telescopi di radio che servono a livello professionale ma compatte per l'educazione per l'educazione di astrazione, l'outrezzo o la ricerca. Grazie a tutti! Grazie a tutti!